Il governo è la frutta, l'eversione è dentro il palazzo, la protesta va ascoltata, anzi la protesta non va portata solo a Roma ma anche a Bruxelles perché è questa Unione Europea, questo euro che sta massacrando il lavoro e il futuro, quindi i forconi padani sono pronti a farsi sentire non solo a Roma ma anche a Bruxelles che è quella che sta bloccando tutto. Detto questo il governo Letta rimane incollato alla poltrona perché così gli chiede qualcuno che vuole ancora fare affari in Italia, però penso che durerà poco.